Dalle indagini coordinate dalla Direzione Distruttuale Antimafia di Bari scoperto un pericoloso sodalizio criminale composto da boss della mafia del Gargano con ramificazioni in varie province pugliesi e in Abruzzo. Secondo gli investigatori infatti gli indagati agevano tra i territori di Foggia, Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, ma anche Pescara e Francavilla al Mare. Cinque le misure cautelari in carcere altrettante ai domiciliari. Tra questi sono tre gli abruzzesi coinvolti, Stefano Caldarelli, 37 anni, di Pescara, e Andrea Scaglione, 25 anni, di Atri. A loro il compito è di gestire la base logistica dell'organizzazione criminale nella nostra regione e in particolare da Montesilvano a Francavilla al Mare. Coinvolto un terzo abruzzese, Cristian Serra, 44 anni, di Chieti. Di questi solo Caldarelli è in carcere, gli altri due domiciliari. Le attenzioni degli inquirenti a seguito di indagini avviate nel 2017 per una serie di omicidi tra malavitosi che operavano tra Vieste, San Marco e Lamist nel Gargano si sono concentrate su alcuni personaggi della criminalità locale. In particolare si è scoperto che Claudio Iannoli, 43enne di Monza, ma residente a Vieste, aveva preso in mano le redini del sudalizio dopo l'arresto del boss Girolamo Perna. Sfruttando le sue conoscenze, aveva in breve tempo ampliato il suo raggio d'azione caratterizzato prevalentemente dal traffico e spaccio di cospicuo e quantità di stupefacente, in particolare cocaina. Da qui gli accordi con un pregiudicato foggiano Luciano De Filippo, legato al clan sinesi Francavilla, e quelli con il manfredoniano Gaetano Renegaldo del clan dei Libergolis. Non contento, Iannoli si era concentrato anche sul mercato della costa abruzzese, impiantando a Pescara una vera e propria base logistica affidata ai sodali Stefano Caldarelli e Andrea Scaglione. Affare da tramite, tra il nuovo boss Iannoli e la frangia abruzzese, Gaetano Renegaldo, del quale gli inquirenti hanno accertato diversi viaggi in terra nostrana. In questi due anni, sequestrati oltre due chilogrammi di stupefacente, è ricostruita nel dettaglio tutta la rete. Una curiosità, nel pull coordinato dalla procura distruttuale antimafia di Bari, alcune vecchie conoscenze dalla polizia pescarese, l'attuale questore di Foggia, Mario Della Cioppa, l'attuale capo della squadra mobile di Manfredonia, Pierna Francesco Muriana, e l'ispettore superiore Nicolino Sciolet.